Controllo e visibilità al 100% dell'offerta sanitaria pubblica e privata, apertura degli ambulatori nei fine settimane ed in caso di necessità anche nelle ore serali, sensibile riduzione dei tempi per ottenere le prestazioni sanitarie anche grazie ad un centro unico per le prenotazioni assicurando trasparenza nella gestione dei tempi. Sono alcune novità del nuovo piano regionale delle liste d'attesa 2019-2021 voluto dall'assessore alla salute Ruggero Razza. Si propone la centralizzazione dell'agenda delle strutture pubbliche e private e con un centro unico per le prenotazioni verranno messe in collegamento tutte le realtà che operano in quell'ambito territoriale. L'utente dovrà fare riferimento solo a quel centro unico per prenotare la prestazione. Potrà accadere che un servizio possa essere logato da aziende pubbliche o da strutture accreditate senza costi aggiuntivi a carico dei pazienti. Aspe e aziende dovranno anche provvedere a sistemi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche. Sarà attivata una procedura che permetterà ai pazienti di ottenere le prestazioni in ospedale o struttura privata accreditata. Ci si potrà valere di prestazioni aggiuntive da erogare in regime libero professionale. Le visite saranno sostenute economicamente dall'azienda riservando al cittadino solo un'eventuale partecipazione al costo della prestazione. Il piano prevede di aumentare l'80% della capacità produttiva e per contenere o abbassare i periodi di attesa sarà prevista l'apertura nel fine settimana degli ambulatori degli ospedali e che in caso di necessità potranno essere aperte anche nelle ore serali. Le previsioni del piano regionale rientrano tra gli obiettivi dei nuovi direttori generali validi per il riconoscimento dell'indennità di risultato prevedendo fino alla decadenza dall'incarico.